Buongiorno da Radda in Chianti, ieri è stata una giornata di pedalate, abbiamo fatto l'anello nord dell'eroica, sono stati 53 km con 1100 metri di livello, molto scenografico, tutto un su e giù per le colline del Chianti, molto bello, mi chiedo come facciano con le bici d'epoca a fare certe salite e certe discese senza freni che abbiamo a noi sulle bici moderne. Buongiorno da Radda in Chianti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.